Grazie. Buongiorno a tutti, bentornati a Spazio alla Conoscenza 5.0. Quest'anno affrontiamo il mito e la realtà, quindi affrontiamo Marte sotto un punto di vista scientifico e fantascientifico. Grazie a Andrea Bernagozzi, che è appena arrivato. Grazie mille, ciao. Ciao Andrea, benvenuto. Grazie tantissimo a voi che mi avete invitato. Allora, a te la parola, ti lasciamo subito in via. Perfetto, benissimo. Benissimo, allora grazie ancora a tutte e tutte le persone che stanno gestendo questa diretta per Spazio alla Conoscenza 5.0, se non ho perso il conto. Addirittura sì. Perfetto, quindi una meravigliosa iniziativa di didattica che veramente ha questa caratteristica di mettere non solo le studentesse e gli studenti, ma anche i partecipanti come relatori a contatto con varie realtà della scienza e della cultura in generale, alcune delle quali io personalmente, per esempio, non conoscevo altrettanto bene come dopo averne seguito appunto gli interventi a Spazio alla Conoscenza. Perché una caratteristica che io trovo veramente bella di questo progetto, fra le tante caratteristiche veramente importanti di questo progetto didattico, e che poi tutto il patrimonio di dirette online o di dirette in presenza che nel corso degli anni sono state accumulate restano a disposizione di chiunque attraverso i canali social dell'istituto e quindi fanno una vera e propria specie di biblioteca della cultura che chi vuole può consultare quando ha l'occasione per approfondire un certo argomento. E quindi è veramente qualcosa di molto interessante. Grazie mille. Prego, grazie a voi. Ecco, ho usato l'espressione biblioteca non a caso perché oggi parleremo molto di libri. Parliamo molto di libri perché, appunto, come è stato detto, affronteremmo il pianeta Marte tra mito e realtà, tra fantasia e dati scientifici, o meglio, tra fantascienza e dati scientifici, i dati della scienza. E in particolare dal punto di vista della letteratura di fantascienza. Quando oggi si parla di fantascienza il pensiero all'inizio sicuramente ha i grandi film, ma i blockbuster che guadagnano tantissimi... incassi, miliardi di dollari e da appassionato di fantascienza sono anche molto contento che, appunto, sia un genere così diffuso, almeno da un punto di vista commerciale. Poi magari sulla qualità qualcuno può discutere, non sono un critico cinematografico, non è questo il mio obiettivo, però anche le opere di intrattenimento, pure semplice, se hanno quell'obiettivo e lo raggiungono, hanno appunto colto del segno. E quindi siamo tutti contenti se possiamo rilassarci ogni tanto anche guardando un film, e io dal passato di fantascienza sono ancora più contento se è un film di fantascienza. E poi in realtà anche le opere più leggere possono avere dei contenuti che proprio iniziano a leggerezza vengono trasmessi quando te ne accorgi e poi diventano il tuo patrimonio culturale. Vedremo che, appunto, molte opere dedicate al pianeta Marte, opere di fantascienza, in realtà avevano tanti contenuti, anche molto importanti. Non parleremo però di film o di videogiochi, che è un altro argomento attraverso il quale il pianeta Marte oggi è molto protagonista nell'immaginario. Non parleremo neanche di telefilm, parleremo di libri. Io voglio parlare proprio di libri perché, ahimè, io appartengo a una generazione un po' l'accogliani e quindi io sono cresciuto con i libri. E con i libri di fantascienza, quelli di carte in particolare, che sono stati fondamentali per quanto mi riguarda per accendere non solo la fantasia ma anche la mia passione per il cielo e per lo spazio. Quella passione per il cielo e per lo spazio che poi sono riuscito scusatemi a trasformare anche nella mia attività professionale proprio perché lavoro in un osservatorio astronomico. E questo colpo di tosse che è appena arrivato e anche la tazza di te caldo che ogni tanto sorseggerò stanno a dimostrare che lavorando in un osservatorio in cima alla montagna ogni tanto si può prendere anche qualche malanno di stagione. Allora voi mi confermate che state vedendo tutta la mia presentazione quindi state vedendo anche... Perfetto, grazie. Questa slide è dedicata alla giornata nazionale dello spazio, la seconda giornata nazionale dello spazio che è un'iniziativa del governo italiano, un'iniziativa che vuole segnalare proprio come l'esplorazione dello spazio, sia quella con i telescopi ma quella anche con satelliti artificiali, sonde spaziali con le missioni dei nostri astronauti, astronauti in particolare italiani nello spazio. non è solo qualcosa di affascinante e di bello da seguire ma è anche qualcosa di legato alla quotidianità perché per esempio molte delle tecnologie che noi utilizziamo nella nostra giornata, a cominciare da quelle che stiamo utilizzando adesso per fare questo diretto online, sono collegate a sviluppi tecnologici che abbiamo ottenuto grazie agli investimenti proprio nell'esplorazione dello spazio, nel costruire quegli strumenti che permettendoci di capire meglio qualcosa su pianeti, stelle, satelliti, luni e così via, ci hanno costretto ad affrontare delle sfide tecnologiche che hanno permesso di inventare degli strumenti che poi una volta che hanno funzionato nello spazio possono essere utilizzati anche qui sulla Terra a cominciare per esempio dalle tecnologie elettroniche e a tutti quindi quegli aspetti hardware e software che adesso ci stanno permettendo di fare una diretta online tranquillamente così, lavorando insieme anche a distanza e quindi un aspetto veramente molto interessante. Sono contento di partecipare a questa iniziativa perché appunto Spazio della Conoscenza 5.0 contestualizza questo incontro dedicato appunto a Terra e Marte tra scienza e fantascienza le cronache marziane che noi abbiamo intitolato proprio anche nell'ambito della giornata nazionale dello spazio e quando si parla di spazio Marte è protagonista Io lavoro qui all'osservatorio astronomico della regione autonoma Valle d'Aosta dove ci occupiamo di ricerca scientifica di trasferimento tecnologico che vuol dire proprio questo vuol dire applicare le tecnologie che si inventano per lo studio del cosmo noi con i telescopi ma stando a piedi per terra perché siamo astronomi gli astronauti chiedo scusa magari andando nello spazio a bordo della stessa espressione internazionale e così via ebbene applicare queste tecnologie anche in altri contesti contesti che permettono appunto di avere innovazioni tecnologiche innovazioni tecnologiche che sfruttiamo qui nella nostra vita per comunicare per fare commerci, prodotti insomma per tentare se ci riusciamo di renderci la vita migliore su questo pianeta e tutte queste belle cose a chi le vuole sentire noi le possiamo raccontare a chi ci viene a trovare quassù nel nostro osservatorio astronomico per le scolaresche con le nostre iniziative di didattica e per i visitatori il pubblico generico in genere appunto per tutti i curiosi del cielo dello spazio con le nostre iniziative di divulgazione io sono qui da consigliare veramente consigliatissima perché è veramente bellissimo osservare il cielo da voi è qualcosa di ci siamo già venuti due volte memorabile veramente memorabile sono molto contento sia per il cielo sia per chi ti fa vedere le cose poi sapete spiegare veramente bene e appassionare quelli che vedete bene vi ringrazio per queste parole non ci eravamo messi d'accordo quindi sono assolutamente proprio paziente no? è proprio dal cuore no? merita niente una visita di buca grazie se riusciamo a fare tutte queste attività lo dobbiamo a tutte quelle bandierine che vedete nella parte inferiore della slide cioè tutti i vari enti grazie ai quali noi abbiamo le risorse e intendo dire proprio le risorse economiche per poter fare le attività che proponiamo quindi non solo grazie a chi venendo da noi paga i biglietti e può appunto in questo modo contribuire a farci fare tutte queste attività ma anche appunto a questi enti come per esempio i nostri soci fondatori la regione ottenere d'aosta l'unità del comune valdottel montemilius il comune di Nus nel cui territorio ci troviamo a circa 1700 metri nella frazione montana di Lignan un piccolo villaggio appunto in cima a questa montagna e in particolare per esempio questo pomeriggio io sono qui nell'ambito di un progetto di ricerca che però ha anche degli aspetti di divulgazione che è finanziato dalla fondazione CRT cassa di risparmio di Torino e quindi diciamo è grazie a questi enti che io posso appunto essere in questo momento qui a fare questo discorso se quindi vi piacerà e grazie anche a loro se non vi piacerà è solo colpa mia prima si parlava del cielo bellissimo che si può vedere a sembrare telemi questa è una fotografia del cielo notturno e si vede che quando è sereno a occhio nudo lassù si vedono tantissime stelle questa fotografia è ripresa con un telescopio che è più potente dell'occhio umano chiedo scusa con un telescopio con una fotocamera chiedo scusa che è lievemente più potente più sensibile dell'occhio umano ma lievemente cioè il cielo che si vede non è così diverso da quello che si vede in questa meravigliosa fotografia scattata dal videomaker e fotografo professionista Giovanni Antico detto Gantico qua si vedono i nostri telescopi puntati verso il cielo stellato e senza accorgervene questi puntini bianchi che sono le stelle alcune più brillanti quindi si vedono di più altre un po' meno brillanti si vedono di meno e senza accorgervene in questo momento state vedendo circa mille mille e cinquecento stelle sono le stelle che si riescono a vedere quando è sereno a sembrare telemi al punto che abbiamo guadagnato un premio internazionale un riconoscimento internazionale quella piastra rotonda che vedete in un angolo in basso a destra sullo schermo è appunto la la nostra certificazione di Starlight Stellar Park la certificazione di rilasciata dagli astronomi di tutto il mondo di come si vede bene il cielo quando siamo qua su a St. Bartolome è una certificazione rilasciata dall'Unione Astronomica Internazionale che appunto sono gli astronomi di tutto il mondo e anche dalla riconosciuta anche dall'UNESCO cioè l'Agenzia per la Cultura delle Nazioni Unite quella famosa per la lista dei siti che sono patrimonio dell'umanità quindi siamo molto contenti di aver riconosciuto di avere questo riconoscimento siamo stati i primi in Italia qualche mese fa anche Isnello un sito osservativo dove sorge l'osservatorio astronomico Galassin in Sicilia ha ricevuto un analogo riconoscimento Marte dicevamo Marte è protagonista di questo nostro incontro non a caso perché proprio pochi giorni fa l'8 di dicembre Marte si è trovato nel gioco delle orbite della Terra di Marte attorno al Sole essendo entrambi i pianeti che orbitano intorno al Sole si è trovato a essere all'anima distanza e alla migliore posizione di osservazione dalla Terra per quest'anno per il 2022 questo fenomeno viene chiamato opposizione vedete in particolare nella sera dell'8 dicembre il pianeta Marte si è appunto trovato non trovo il laser ma non in eccoci qua questo è il nostro pianeta Marte questa è un'illustrazione realizzata con i software stellari del cielo come appariva da Saint-Barthélemy la sera dell'8 dicembre alle ore 21 sulle 9 di sera e si vede qua proprio il pianeta Marte che brilla in mezzo alle corna della costellazione del Toro non lontano dalla Luna questa è la sera dell'8 dicembre difficilmente visibile dall'Italia perché è un fenomeno che è avvenuto molto basso sull'orizzonte ma la mattina dell'8 dicembre poco prima del sorgere del sole il pianeta Marte proprio mentre si stava avvicinando il momento dell'opposizione cioè il momento in cui dalla Terra Marte e il Sole si vedono da parti opposte del cielo vuol dire che quando tramonta il Sole e sorge Marte questo alla sera ma al mattino quando sorge il Sole Marte sta tramontando ecco quindi sono allineati Sole e Terra e Marte nello spazio ebbene in quella mattinata succedeva anche un altro fenomeno una coincidenza però molto bello da vedere la Luna sarebbe passata proprio prospetticamente di fronte al pianeta Marte dico prospetticamente perché perché la Luna è un satellite il satellite naturale della Terra orbita intorno alla Terra a circa 384 mila chilometri di distanza dal nostro satellite Marte quella sera si trovava a circa 60 milioni di chilometri 60-70 milioni di chilometri di distanza da noi quindi molto più lontano ma dal nostro punto di vista della Terra sembravano vicini così vicini che addirittura a un certo punto la Luna è proprio passata di fronte al pianeta Marte quindi coprendo il pianeta Marte ecco che si chiama occultazione questo è capitato all'alba dell'8 dicembre e questa è una meravigliosa fotografia di questo altro fotografo che si chiama Andrew McCarthy che l'ha postata sui social e quindi l'ha resa disponibile a tutti in cui appunto si vede il momento in cui il nostro pianeta Marte che è quel disco rosso che si vede lì e sta si trova apparentemente dal punto di vista prospettico sul bordo del nostro satellite fa veramente impressione in realtà i due corpi sono distantissimi uno dall'altro però questo allineamento dal punto di vista prospettico è molto suggestivo e questa foto è spettacolare sembra io pensavo fosse un falso perché mi ricordava un pochettino quella che avva scatato Orion con la Terra e pensavo che qualcuno si fosse divertito a sostituire la Terra con Marte no è bellissimo è una foto vera e la cosa che fa impressione appunto è che questa ultima fine del 2022 da un punto di vista scientifico è stato ricco di grandi importanti argomenti di carattere scientifico e spaziale perché avevamo appunto opposizione e occultazione del pianeta male abbiamo avuto eh in il frattempo proprio in quelle stesse ore si stava concludendo la missione di Artemis One o Artemis One questo nuovo programma che appunto vuole portare gli esseri umani sulla Luna non per arrivare sulla Luna perché quello l'abbiamo già fatto 50 anni fa con il programma Apollo Artemide nella mitologia sorella proprio di Apollo è invece un programma che intende raggiungere la Luna per iniziare a colonizzarla e poi utilizzarla come rampa di lancio come Trump ma con esseri umani per esempio per partire verso il pianeta mare quindi è un progetto a lungo termine decenni ci vorranno per riuscire a fare tutto quello che si pensa di fare ma insomma guardare lontano non solo dal punto di vista astronomico ma anche dal punto di vista cronologico è uno proprio degli aspetti più importanti della scienza la recente annuncia se mi permettete di tornare bruscamente sulla Terra di questa reazione di fusione nucleare controllata che ha prodotto un po' più di energia di quanto si è servita per mantenerla innescata realizzando sulla Terra una fusione di energia per certi versi analoga allo stesso meccanismo allo stesso processo che tiene accese le stelle bene questo è un'altra bellissima notizia di questo periodo da un punto di vista scientifico ma è un altro progetto a lungo termine perché per passare da un esperimento che è stato di successo ma che ha permesso di produrre questa energia per una frazione di secondo e anche una piccola quantità di energia a centrali che funzionano con questo sistema o con altri sistemi sempre funzionanti con la fusione nucleare ebbene lì bisognerà aspettare ancora dei decenni ma chiaramente se non si fa prima quel piccolo passettino se non si ha prima l'esperimento in cui in piccolissimo però dimostri che quella cosa si può fare poi 10 20 30 40 50 60 anni dopo non arrivi da nessuna parte bisogna pur cominciare allora dove cominciamo invece noi adesso stiamo cominciando dal nostro confronto alla diciamo così fra terra e marte questi nostri due mondi marte è forse il pianeta più popolare dato che si parla sempre di marte 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 le esplorazioni di marte le sonde su marte gli astronauti su marte in futuro chi lo sa da questo confronto dell'americana la prima cosa che salta agli occhi è che il pianeta marte in realtà è un pianeta molto più piccolo della terra dal punto di vista della sua orbita la terra è il terzo pianeta in ordine di distanza dal sole in vista circa 150 milioni di chilometri dal sole in media marte è un po' più lontano è una volta e mezza è più lontano della terra quindi è un pianeta più lontano dalla sole della terra non sorprende quindi né che impieghi più tempo a girare intorno al sole il periodo di rivoluzione della terra lo sappiamo tutti attorno al sole è di un anno 365 giorni e 6 ore circa quella del pianeta marte è circa doppio ebbè è più lontano impiega più tempo a girare intorno al sole curiosamente i due pianeti hanno due periodi di rotazione che sono fra loro simili quello del pianeta marte è lievemente più lungo della terra perché marte ruota su se stesso come se fosse una giostra in 24 ore e 37 minuti rispetto al sole quindi vedete che questo scarto di 37 minuti in più rispetto alla terra però è più piccolo il suo diametro è proprio circa la metà di quello della terra e la sua massa è anche inferiore in proporzione nel senso che marte è costituito in media da sostanze molto meno pesanti delle sostanze che formano il nostro pianeta anche il pianeta marte è un'atmosfera come la terra ma intanto è un'atmosfera irrespirabile per noi perché è fatta quasi interamente di anidride carbonica e poi è molto più sottile della nostra quindi ha molta meno pressione atmosferica e la cosa che non ci sorprende è che guardando il pianeta marte e capendo che è più lontano della terra come si vede in questa tabella non sorprende vedere che la sua temperatura media sulla sua superficie si agira sui 50-60 gradi sotto zero temperature che noi abbiamo per esempio anche qui sulla terra in antartide ma per fare un esempio questa è la temperatura media di marte ai poli del pianeta marte dove ci sono calotte dal colore bianco fatti appunto di sostanze ghiacciate ebbene queste temperature possono arrivare anche a 140-150 gradi sotto zero marte è bello freddo quindi non sembra proprio un mondo ospitale un mondo dove ci verrebbe voglia di andare ebbene non ci sorprende quindi che i nostri autori di fantascienza abbiano inventato invece delle storie basate sul percorso opposto cioè sui presunti potentici abitanti di marte che da marte sono voluti venire sulla terra quello che stiamo vedendo adesso mi confermate che state riuscendo a vedere il filmato perfetto grazie mille grazie mille non sto facendo sentire il sonoro perché dopo si confonde con la mia voce ma comunque sia inutile questo è un trailer e la pubblicità di un film non dice ma come adesso per l'iniziativa di dati che fa le pubblicità del film ma tanto è un film del 1953 non è un film del cinema al cinema adesso ed è un classico della fantascienza è un meraviglioso film che si intitola La guerra dei mondi in cui si immagina che dal pianeta Marte arrivino degli invasori dei terribili mostri marziani ovviamente che decidono di conquistare la terra allora vedete gli eserciti terrestri si mettono in azione per difendere la terra da questa terribile invasione la cosa ovviamente molto complicata non credo di fare nessun spoiler ricordando dato che è un film hollywoodiano fatto negli Stati Uniti a Hollywood negli anni 50 che ovviamente alla fine ci sarà un lieto fine del quale parliamo dopo e in questo trailer si possono vedere gli incredibili effetti speciali dell'epoca effetti speciali che effettivamente all'epoca erano all'avanguardia non erano certi effetti digitali fatti con i computer ma erano con modellini di navi spaziali tenute con dei fili sottili che in alcune scene del film si intravedono addirittura oppure terribili mostri con tutto quello ecco qua un cartellone pubblicitario in cui si vede una di queste astronave con questi terribili raggi di calore distrugge gli eserciti terrestri oppure eccolo il marziano come vedete è veramente un mostro che è al posto degli occhi che abbiamo noi esseri umani in viso ha questo occhio unico con i tre colori rosso verde e blu evidentemente ai quali il suo occhio è sensibile in maniera diversa organizzata in maniera diversa rispetto alla vista umana ecco questo per esempio era un mostro terribile e per farsi pubblicità la casa produttrice ricordava che ai deboli di cuore era consigliato non andare a vedere questo film perché per lo spavento avrebbero potuto avere dei problemi in effetti vinto l'oscar per gli effetti speciali questo film qui vediamo i due protagonisti il il protagonista maschile di cui seguiamo le avventure un fisico che scopre varie escogita vari stratagemmi però forse i marziani ma i marziani riuscivano sempre a avere la meglio di questi stratagemmi ovviamente la bella del film che il nostro il nostro protagonista uno scienziato atletico e vincitore di vari premi internazionali sulla copertina di time insomma è bello atletico scienziato è bravo intelligente ce l'è a tutte lui meglio per lui ecco ed è anche la bella che ovviamente lui protegge lui sa abbiamo qui degli anni 50 e quindi la cultura dell'epoca è questa ovviamente la cultura dell'epoca è anche quella del periodo storico in cui questo film viene realizzato è il periodo della contrapposizione tra il blocco occidentale capeggiato dagli Stati Uniti e il blocco orientale capeggiato dalla loro Unione Sovietica è quello che noi chiamiamo guerra fredda detto che oggi ci sono un po' di tensioni internazionali che per certi versi possono avere somiglianze col periodo della guerra fredda in realtà oggi ci sono tanti fronti all'epoca c'erano proprio questi due grandi blocchi che si contrapponevano e questi marziani che arrivano all'improvviso e invadono ovviamente la terra a cominciare dagli Stati Uniti ovviamente e ovviamente gli Stati Uniti con il loro esercito potente sono quelli che riescono a fare la maggiore resistenza pur venendo sconfitti dai marziani allora è chiaro che questo film si ambienta in questo contesto ed è chiaro quindi che i mostri marziani che si vedono in questo film che si vedono in una famosa raccolta di figurine che all'epoca si vendevano nelle edicole nei negozi degli Stati Uniti e che andavano a Aruba era stato un grandissimo successo ebbene questi mostri che arrivano e ovviamente arrivano qui sulla terra per distruggere la nostra cultura vedete mangia la torre Eiffel ma rapisce la donna che ovviamente è bionda con gli occhi azzurri e tutto quello che volete voi sono una rappresentazione distorta di questi terribili impossibili invasori comunisti sovietici che volevano influire sulla way of life che volevano distruggere la maniera di vivere del mondo occidentale e ovviamente quando si parla di mostri che vogliono venirci a distruggere non è possibile avere un dialogo l'unico incontro può essere uno scontro il conflitto e allora ecco che nel film alla fine ovviamente i marziani hanno la peggio e in questa storia raccontata con queste figurine ovviamente i terrestri a un certo punto vanno su Marte ed ecco che vedete li prendono proprio gli staccano il cervello perché tanto sono mostri e quei mostri non si discute sono alieni non hanno nulla a che fare con noi e quindi abbassarli non vuol dire niente perché non stiamo ammazzando un qualcuno che ha qualcosa a che fare con me stiamo semplicemente lottando per la sopravvivenza e come dicevano gli antichi mort tua vita mea morte la morte tua è quella che permette a me di sopravvivere a maggior ragione se sei un alieno così mostruoso così cattivo quella quale appunto l'unica cosa buona che posso farti è quella di ammazzarsi in realtà non era la prima volta che il mondo veniva invaso dai marziani con il film del 1953 era già capitato nel 1938 non al cinema stavolta ma alla radio alla radio quando questo grandissimo attore Orson Welles grandissimo attore grandissimo regista centrale grandissimo regista cinematografico una persona che a 25 anni aveva già rivoluzionato la maniera in cui si faceva appunto teatro radio e cinema secondo appunto i criteri dell'epoca un genio assoluto ebbene lui conduceva un programma alla radio un programma di teatro fatto alla radio e ha un'idea eccezionale ha l'idea di raccontare alla radio l'invasione della terra da parte di marziani non come si racconta una storia ma come si racconta una radiocronaca di un evento facendo una radiocronaca dell'invasione con attori che fanno finta di essere giornalisti altri attori che fanno finta di essere i conduttori in studio e si passano la linea dicendo è caduto questo oggetto misterioso gli astronomi pensano che siano meteorite poi in realtà sono navi allie e i marziani iniziano a sparare e a uccidere le persone insomma una storia raccontata come se fosse una vera diretta ora all'inizio di questa trasmissione ovviamente c'è l'annuncio il Mercury Theater questo era il nome della compagnia teatrale di Orson Welles presenta lo spettacolo La guerra dei mondi con anche gli sponsor e tutto il resto diverse persone si collegarono alla radio dopo che la trasmissione era iniziata e quindi non sentirono questa presentazione iniziale che chiaramente faceva capire che opera di fantasia accendo la radio cosa succede sentono la radiocronaca di un'invasione dei marziani e molte persone credono di stare seguendo una vera radiocronaca quante persone all'inizio si parlò di milioni di persone che presero per vera questa trasmissione poi è stato ridimensionato in qualche centinaio di migliaio forse in qualche migliaio ma è ininfluente da questo punto di vista perché la cosa incredibile è appunto che vigliaia di persone anche diciamo così nell'ipotesi più prudente credetero che ci fossero dei marziani che stavano invadendo la terra e che questa invasione fosse raccontata in diretta alla radio qua si vede da una parte di un suo Wells che sta facendo l'attore e racconta appunto sta interpretando questa sua opera e dall'altra parte si vede Hurl un contadino della zona est degli Stati Uniti che si mette in posa per i giornalisti per mostrare come lui aveva messo i sacchi alla finestra della sua fattoria e con la sua carabina e ovviamente l'immancabile pipa in bocca era pronto a cogliere i marziani e con il suo sparandogli appunto i suoi pallettoni tutta questa trasmissione si può sentire al link che si vede dopo questa è una presentazione che ovviamente metto a disposizione del progetto Spazio della Conoscenza quindi trovate tutti i link tutte le informazioni e si può sentire anche che a un certo punto a un certo momento entra la polizia nello studio dove stanno facendo questo spettacolo e chiede a Orson Welles di fermare la trasmissione e di annunciare perché è una città perché molte persone stavano telefonando in varie stazioni della polizia in varie zone degli Stati Uniti chiedendo informazioni su queste invasioni dei marziani quindi tante persone abbastanza da far fare questo intervento incredibile presero su serio questa trasmissione e Orson Welles fermò e disse attenzione sono Orson Welles questa è semplicemente una rappresentazione teatrale il giorno dopo questa trasmissione come vedete i titoli giornali parlano di questa finta guerra alla radio che semina il panico attraverso gli Stati Uniti si parla addirittura di la radio come un mezzo di comunicazione pericoloso meno sicuro dei quotidiani che invece verificano le notizie e quindi bisogna instaurare un accomitato di controllo sui contenuti dei programmi radiofonici oggi lo chiameremo censura in questi momenti in cui si parla tanto di fake news vedete quella parola fake come torna periodicamente di come non più la radio ma altri mezzi di comunicazione estremamente pervasivi diffusi usati da molte persone come per esempio i social aiutano a diffondere notizie e quindi si crea molta confusione si parla da una parte di dover controllare questi social dall'altra invece come adesso Elon Musk con il suo acquisto di Twitter ha detto no bisogna favorire il libero pensiero tutti possono parlare liberamente free speech e come free speech proprio ieri sera Elon Musk ha bloccato gli account Twitter di tutta una serie di giornalisti considerati evidentemente non simpatici al suo progetto non affine al suo progetto mi permetto di dire in diretta per spazio della conoscenza la mia opinione personale alla faccia del free speech detto questo la questione come vedete è interessante perché ci fa capire quanto il dibattito su mezzi di comunicazione e riuscire a avere un pensiero critico cioè a capire cosa stai se quello che stai seguendo se quella notizia che stai leggendo se quel video che stai vedendo è qualcosa appunto di affidabile oppure no come vedete non è solo una questione dei nostri giorni è una questione che arriva anche dal passato ora c'è una cosa che a me fa veramente impressione perché se prendiamo il titolo del New York Times del giorno dopo quella trasmissione vedete che all'inizio c'è scritto il centro c'è scritto radioascoltatori in panico prendono una guerra finta per vera ecco e sotto scrivono molti scappano di casa per sfuggire ai gas velenosi dei marziani perché nella storia questi marziani avevano raggi di calore e gas velenosi per uccidere le persone quindi li avvelenavano con il gas e poi diventavano loro i padroni della terra ebbene guardiamo la data la data di questa giornata è il 31 ottobre 1938 ora il 31 ottobre voi lo sapete è il giorno di Halloween la notte tra il 31 ottobre e il primo di novembre è la notte di Halloween la notte dedicata alle storie di paura ed è proprio questo il motivo per cui Wells ha la radio il 30 ottobre cioè il giorno la sera prima ha fatto una storia di paura la sera prima perché il suo programma andava in onda la sera prima tutto qui e quindi ecco che ha voluto raccontare una storia di paura e ci è riuscito molto bene perché sicuramente tante persone le ho spaventate ma quello che fa veramente impressione e che ci fa capire come sia possibile che si potesse pensare che c'era appunto una possibilità di un disastro così imminente è la notizia che c'è a fianco a fianco si legge di ebrei che scappano dalla Germania per rifugiarsi in Polonia sono gli anni 30 in Germania c'è il regime nazista gli ebrei scappano in Polonia e sappiamo che la seconda guerra mondiale scoppierà proprio con l'invasione della Germania della Polonia chiedo scusa da parte della Germania nazista ufficialmente il primo settembre del 1939 quindi un anno dopo questa cosa ora due considerazioni la prima ecco perché molte persone erano inclini a pensare che potesse esserci non tanto un'invasione ma un disastro incombente il clima era un clima pesante un clima in cui si capiva che potevano esserci catastrofi prossime all'orizzonte poi che fossero marziani oppure guerre molto terrestri quello magari non si capiva ma ecco le persone avevano già ansia ecco perché quando sentirono questo discorso molti anche per questo credettero oltre che per la bravura di Wells e della sua interpretazione e dei colleghi che lo aiutarono a fare questa opera alla radio è per questo che molti credettero che poteva essere una situazione reale ma l'altra cosa che fa impressione è che appunto questi marziani uccidevano i terrestri con le nosi gasando le persone proprio uno degli strumenti della terribile soluzione finale del regime nazista alla fine della fiera come ogni appassionato sa si scopre che spesso volentieri mostrambe dalla terra e che purtroppo certe volte purtroppo certe altre volte si spera se siamo bravi per fortuna però la realtà è sempre in grado di superare la fantasia nel peggio e nel meglio ma tutta questa invasione dei marziani in realtà prima di avvenire al cinema e prima di avvenire alla radio era venuta sui libri i libri di cui adesso d'ora in poi parliamo solo di libri in particolare nel libro la guerra dei mondi di Herbert George Wells Herbert George Wells grande scrittore britannico con più uno dei padri della fantascienza dei nostri giorni ed Herbert George Wells immagina in un libro pubblicato prima in rivista puntate e poi raccolti in un volume la guerra dei mondi the war of the world che arrivano questi terribili mostri marziani nascosti dentro appunto dei proiettili sparati dal pianeta a Marte e quando escono da questi da questi proiettili camuffati da meteoriti con la loro tecnologia superiore devastano il pianeta terra ma a un certo punto come si vede nell'illustrazione che state vedendo più a destra questi marziani così come erano arrivati muoiono ma non muoiono attenzione perché i terrestri li hanno sconfitti se per terrestri riteniamo agli esseri umani no muoiono perché sono sconfitti dalle malattie dai microbi terrestri microbi terrestri ai quali loro non sono abituati non hanno gli anticorpi e quindi ecco che anche una normale influenza o raffreddore con i quali noi abbiamo imparato assolutamente a convivere diventa una malattia mortale per questi marziani perché non hanno le risorse per potersi apporre a questi microbi ecco quindi non i terrestri nel senso degli esseri umani ma i terrestri nel senso di quelli che Wells chiama gli esseri più umili microbi microscopici sparsi dappertutto del nostro pianeta sono loro che sconfiggono i marziani questo ci fa capire anche una cosa interessante che non era solo l'astronomia la parte scientifica che aveva ispirato Wells a scrivere questo romanzo ma anche la biologia infatti Wells a dire la verità aveva studiato biologia e l'aveva studiata con Thomas Henry Axley il signore che vedete lì simpaticamente ritratto con un testo in mano un importantissimo biologo che è stato nella seconda metà dell'ottocento uno dei delle figure fondamentali perché è stato quello che è a livello accademico ha popolarizzato ha diffuso la teoria della selezione naturale dell'evoluzione per selezione naturale di Charles Darwin una teoria che pur con sviluppo e modificazioni anche la teoria dell'evoluzione può evolvere è considerata appunto la teoria di riferimento per la biologia ancora ai nostri giorni in questa teoria si dice che non è necessariamente il più forte che sopravvive ma è il più adatto il più adatto all'ambiente ecco perché i marziani vengono sconfitti nel romanzo di Wells non dalla forza ma perché non sono adatti all'ambiente non si sono adattati ai microbi terrestri che per loro diventano mortali vedete è addirittura volendo un'opera di divulgazione della biologia anche un'opera di satira politica perché purtroppo proprio i batteri portati dalla marina britannica hanno contribuito malattie sconosciute agli indigeni che vivevano nell'isola della Tasmania vicino all'Australia quindi nelle parti sud del mondo isolati dal resto del mondo non conoscevano certe malattie arrivano gli esploratori occidentali e proprio ai tempi di Wells gli ultimi indigeni della Tasmania stavano soffrendo perché la popolazione era stata debellata da queste malattie oltre che dalle cattive abitudini come per esempio l'alcolismo introdotti appunto dai coloni britannici occidentali il disegno che vedete al lato di Axley è uno schizzo dei marziani secondo Wells ancora una volta l'evoluzione presente vedete con questi marziani dice Wells vivono su Marte Marte è un pianeta che orbita più lontano dalla Terra dal Sole quindi la crosta rocciosa di Marte essendo che Marte è più freddo è diventata solida all'inizio era un magma fluido incandescente come era anche la Terra ma essendo più lontano riceve meno energia dal Sole si raffredda prima quindi i marziani nascono prima su Marte di quanto gli esseri umani siano comparsi sulla Terra quindi sono più antichi quindi hanno una tecnologia superiore le macchine lavorano per loro ecco che il corpo dei marziani si atropizza vedete che non hanno praticamente un corpo le braccia le gambe mentre sviluppano un grandissimo cervello ecco vedete questo schizzo è un'applicazione fantastica però ancora una volta di criteri dell'evoluzione mi raccomando non confendiamo Wells lo scrittore che si scrive appunto Wells con Wells che si scrive appunto Wells con la E finale è un caso curioso che si assomigliano i due nomi ma sono diversi uno era britannico e l'altro stato indipendente ci sono anche incontrati l'anziano Wells ha incontrato lo scrittore anziano da anziano ha incontrato l'attore giovane ecco proprio grazie ai romanzi di Wells i marziani diventano protagonisti della fantascienza di tantissime storie che si ispirano alla guerra dei mondi o che immaginano varie forme di vita sul pianeta Marte o altri pianeti del sistema solare o altri pianeti sparsi nello spazio ma la cosa interessante è che in realtà i marziani in tutta questa storia vengono proprio da studi scientifici e da studi scientifici che ci riportano in Italia e in particolare ci portano a Milano all'osservatorio astronomico di Brera nella seconda metà dell'Ottocento quando diventa direttore dell'osservatorio astronomico l'astronomo Giovanni Virginio Schiaparelli l'astronomo piemontese perché era nato a Savigliano oggi in provincia di Cunio che diventa giovanissimo direttore del reale osservatorio astronomico di Brera reale sì perché perché lo diventa nel 1862 cioè l'anno dopo della unità d'Italia c'è il regno d'Italia e Schiaparelli è incaricato di riorganizzare l'attività di questo osservatorio astronomico ora che l'Italia è unita che non ci sono più ostrici francesi o spagnoli per esempio a comandare a Milano i vari conquistatori che appunto si erano alternati negli ultimi secoli a dominare appunto la Lombardia e in particolare Milano grazie appunto a questo a questo lavoro che gli viene affidato Schiaparelli ha la possibilità con fondi pubblici di acquistare il telescopio MERS da 22 cm che vedete nella fotocirale MERS è il costruttore un costruttore tedesco fondi pubblici sì perché questo è il primo strumento scientifico che viene acquistato lo stato italiano dopo l'unità d'Italia quindi è il primo strumento scientifico dell'Italia unita è un telescopio sono anche contento di poterlo dire e con questo strumento scientifico Schiaparelli fa tantissime osservazioni fa tante scoperte importanti che lo rendono uno degli astronomi più importanti del mondo all'epoca e dal punto di vista delle scoperte nella tradizione culturale italiana e secondo solo a Galileo Galilei se volessimo fare così una classifica di importanza dal punto di vista delle scoperte quindi Schiaparelli è un super astronomo ci tengo a chiarirlo quando osserva il pianeta Marte nota sul pianeta Marte come si vede nel suo disegno a mano che si vede lì a destra un alternarsi di zone chiare e zone escure sono le prime osservazioni che Schiaparelli fa di Marte negli anni 70 del 1800 e Schiaparelli introduce una maniera precisa di studio del pianeta Marte volendo disegnare delle cartine geografiche del pianeta Marte lui le chiama areografia geografia e disegnare cartine della Terra ares è il nome greco di Marte quindi areografia quindi inventa tutta una serie di tecniche che all'epoca erano all'avanguardia per prendere nota dei punti di riferimento sulla superficie di Marte che lui vede attraverso il telescopio con cui osserva prima il telescopio da 22 cm poi un telescopio più grande a 49 cm di apertura e la cosa che si vedono in questi disegni realizzati sulla base degli schizzi di Schiaparelli è che il pianeta Marte appare attraversato da una fitta rete di righe dritte scure che vanno da un polo all'altro del pianeta che sono queste righe beh al polo del pianeta Marte Schiaparelli nota che ci sono delle calotte di calonco allora Schiaparelli dice potrebbero essere calotte fatte di ghiaccio come quelle che ci sono sulla Terra se questo ghiaccio si scioglie l'acqua può scorrere libera sulla superficie e dei fiumi sul pianeta Marte ora questa di per sé sarebbe una grandissima scoperta perché sarebbe la scoperta del ciclo dell'acqua sul pianeta Marte ma quello che è ancora più incredibile è che Schiaparelli continua a disegnare mappe sempre più dettagliate della superficie di pianeta Marte e vedete fuori che viene questa serie di ragnate una vera e propria ragnatela di righe che però sembrano disegnate con righello sono troppo dritte per essere fiumi perché i fiumi fanno le curve fanno le anse questi sembrano dei canali canali artificiali cioè scavati da qualcuno ma attenzione sono sul pianeta Marte quindi chi è che li ha scavati? i marziani allora ecco vedete che alla fine del 1800 parlare della possibilità di una civiltà aliena su Marte tecnologicamente così avanzata da costruire da costruire canali che ricoprono l'intera superficie del pianeta qualcosa che noi terrestri non potevamo fare all'epoca e non saremo in grado di fare neanche tutt'oggi bene e fa pensare che possa esserci una civiltà marziana sul pianeta rosso cioè parlare di marziani era dibattito scientifico all'epoca non fantascientifico scientifico ecco perché Wells si inventa i marziani nel suo romanzo non perché se li ha inventati lui per davvero no lui ha letto i resoconti di Schiaparelli che diventano popolarissimi se ne parla sui giornali e ci credo forse marziani scoperti sul pianeta Marte cioè è una scoperta chiaramente incredibile e allora Wells si ispira a questa scoperta per il suo romanzo ma non li ha inventati i marziani la vera origine dei marziani dal punto di vista fantascientifico è l'osservatorio astronomico di Brera a Milano quindi i marziani sono proprio bianchi e rossi e verdi più rossi che bianchi e verdi dato che appunto vengono dal pianeta rosso ma sono proprio italiani quasi come la pizza ora la cosa interessante qual è è che Schiaparelli ovviamente da scienziato lui dice attenzione io non posso dire effettivamente questi canali che io vedo al telescopio sono costruiti dai marziani questo non lo posso affermare scientificamente io affermo che questi canali e vedendoli col telescopio esistono ma quali sia poi la loro natura cioè se frutto della fantasia chiedo scusa frutto dei fenomeni naturali come lo scioglimento dei ghiacci oppure della tecnologia dei marziani questo io Giovanni Vigino Schiaparelli non lo posso dire lo diranno gli astronomi che verranno dopo di me che avranno a disposizione strumenti migliori rispetto a quelli con cui ho lavorato io l'idea però che Marte fosse abitato era un'idea che appunto già prima di Schiaparelli aveva suscitato l'interesse e di personaggi importanti al punto che c'era chi aveva immaginato di disegnare in Siberia un gigantesco teorema di Pitagora tagliando la tundra l'erba in maniera da disegnare con i vegetali il teorema di Pitagora così grande che i marziani se si sono con i loro telescopi lo potevano vedere dal fuoco così i marziani lo vedono con i loro telescopi ed ecco che possono capire che sulla terra ci sono esseri intelligenti ecco addirittura all'inizio del novecento con l'invenzione della radio tutti i personaggi più importanti più famosi dal da Marconi l'inventore proprio della radio come noi la conosciamo in tempi moderni a gli inventori che sono entrati appunto addirittura nella leggenda da quanto sono stati resi popolari dalle loro invenzioni come Nicola Tesla Thomas Alva Edison e così via bene anche loro tentano di captare con le onde radio eventuali trasmissioni radiofoniche provenienti da Marte e in mezzo a tutta una serie di distorale uno ritieni di avere captato ovviamente in lingua marziana qualche voce che arriva dal pianeta rosso qualche voce aliena quindi come vedete c'era proprio un incredibile parlare di marziani all'epoca era dimostrarsi aggiornati sulle ultime sugli ultimi sviluppi della ricerca scientifica tant'è vero che proprio via radio comunicano i terrestri con i marziani in un romanzo di Emilio Salgari perché mi dicono che è così che si pronuncia esattamente un romanzo di fantascienza le meraviglie del 2000 scritto all'inizio del 900 nel quale si immagina che dei protagonisti in seguito a un particolare infuso tratto da un'antica ricetta di antiche popolazioni ebbene entrano in una sorta di ibernazione dormano per cento anni si risvegliano negli anni 2000 e in un mondo completamente diverso ci sono tante meraviglie tecnologiche e anche una comunicazione via radio con i marziani sul pianeta Marte quindi proprio cosa che appunto Marconi, Edison Tesla hanno tentato di fare nei loro pianieristici studi Salgari la trasforma in una parte appunto di questo interessante racconto che oggi il romanzo che scusa che oggi definiremo di protofantacente antenato della scienza contemporanea Schiaparelli insisto lui dice io non posso garantire che esistono i marziani io non ho visto i marziani al telescopio io ho visto i canali al telescopio saranno fiumi? saranno canali artificiali? saranno altro? bene questo lo diranno gli astronomi che verranno dopo perché lui all'inizio del novecento come vedete anziano si ritira da questi studi che i suoi occhi potrebbero vedere bene quindi potrebbero vedere si diverte di Nilek che vedete nella slide si deve immaginare quella che potrebbe essere la vita quotidiana dei marziani che vivono lungo i canali del pianeta rosso ma attenzione lui lo scrive questa è fantasia sono salito in groppa all'ipogrifo della fantasia lui dice come appunto quell'ipogrifo che nell'Orlando Furioso porta a Stolpo verso la luna i marziani che lui chiama Martiali perché sono gli abitanti di Marte quindi che lui racconta in questo in questi suoi in questi suoi piccoli tre saggi sono appunto un esercizio di fantasia un divertisman come si diceva all'epoca e ha proprio ragione Schiaparelli ha proprio ragione quando dice chi verrà dopo di me ne capirà la vera natura perché con telescopi più potenti si scopre che in realtà quei canali sono un'illusione ottica oggi noi sappiamo che su Marte ci sono valli e montagne come sulla Terra illuminati dal Sole si stagliano delle ombre sulla superficie del pianeta Marte guardandoli con telescopi non troppo potenti tutte queste ombre confuse si uniscono a fare all'apparenza delle forme geometriche il nostro occhio riesce a cogliere solo queste forme il nostro cervello le elabora ed ecco quindi che per motivi astronomici per motivi fisici e anche neurofisiologici all'occhio di Schiaparelli e di altri studiosi che osservavano il canale di Marte con gli strumenti dell'epoca apparivano queste figure e quindi però uno può dire però strano ma strano l'illusione ottica tutti lo potevano vedere in maniera diversa questi canali infatti capitava così ma se uno immaginava che erano canali artificiali allora voleva dire che se io vedevo un canale a destra e un'altra persona vedeva un canale a sinistra banalmente non avendo osservato nello stesso momento forse i marziani facevano scorrere più acqua in un canale in un momento più acqua nell'altro canale nell'altro momento e quindi ecco che i canali risultavano in maniera diversa vedete che una volta trovato una spiegazione un po' ardita e tutto il resto segue di conseguenza e invece no illusione ottica ci tengo a specificare che oggi noi sappiamo che sul pianeta Marte ci sono sì tracce di sistemi di laghi fiumi forse addirittura un grande oceano questa immagine ci mostra veramente un percorso tortuoso di quello che forse era un fiume marziano che arriva a una grande foce vedete sembra veramente di vedere qualcosa come il delta di Nilo questa è la zona dove è atterrato per esempio la sonda Persevino insieme con il suo elicottero il drone ingenuito è un caldo che si è atterrato lì perché vedete è una zona dove se c'era acqua sotto liquido vuol dire che oggi Marte è un pianeta freddo ma forse in passato potrebbe essere caldo magari con tanta temperatura e acqua sotto liquido possono esserci le condizioni per lo sviluppo di vita non certi mariani di Wells ma forse microscopiche forme di vita microbi che oggi probabilmente si sono esistiti per averlo o si sono rifugiati in fondità nel sottosono marziano oppure si sono estinti però se si guarda questo panorama marziano e lo si paragona con un panorama terrestre della valle della morte onestamente si fa difficoltà a capire qual è il più alieno tra questi due scenari questa è un'immagine della zona di Stati Uniti chiamata valle della morte e quella dove sono stati girati tanti più western per intenderci sembra veramente un altro mondo ma quando all'inizio del novecento si capisce che questi canali marziani forse sono un'illusione ottica e si capirà sempre di meglio man mano che passano i decenni e quindi forse questi marziani immaginati perché ci sono i canali non esistono più beh ma ormai i marziani sono diventati famosi e non appartengono più a una ricerca scientifica appartengono all'immaginario popolare di tutto il mondo e allora adesso in veloce rassegna vediamo alcune opere di fantascienza che proprio ai marziani si sono ispirati e che ci hanno regalato visioni dei marziani che vedrete ci dicono molto di più sugli esseri umani che sui marziani veri e propri Edgar Rice Burroughs fa tutta una serie di romanzi in cui immagina che un terrestre in maniera non meglio specificata si ritrova sul pianeta Marte che i marziani nella loro lingua marziana chiamano Barsum ed ecco che John Cartel l'eroe appunto di questi suoi romanzi si ritrova a affrontare le varie culture e le varie popolazioni presenti sul pianeta Marte ci sono ovviamente terribili mostri ci sono ovviamente belle donne e principesse da salvare la cosa interessante è che ci sono anche marziani verdi con alcuni tratti tipici degli insetti quindi per esempio come vedete hanno due braccia chiedo scusa due paia di braccia e due gambe quindi in totale hanno sei arti come gli insetti hanno anche delle specie di antenne e sono colorati di verde si pensa che proprio il grande successo dei romanzi di Edgar Rice Burroughs abbia impresso nell'immaginario popolare l'idea che i marziani dovevano essere verdi sui romanzi di Burroughs si parla anche di marziani che sono fatti in altro modo ci sono quelli gialli ci sono quelli rossi però la pelle gialla la pelle rossa ci sono anche come si dice colori della pelle terrestre che possono semigliare a questi colori marziani mentre invece perde proprio no ecco quindi che il colore verde associato ai marziani forse è diventato così popolare al punto da chiamare gli alieni i nomini verdi in maniera così collocale grazie appunto all'immaginario di Burroughs Burroughs che poi è diventato molto famoso con i romanzi di Tarzan quindi un personaggio veramente importante dal punto di vista popolare anche scrittrici di fantascienza come per esempio Lee Brackett scrivono opere ovviamente stavolta i protagonisti non sono muscolosi eroi ma donne guerriere veri e propri amazzoli di Marte e il ciclo delle avventure di queste eroine marziane scritto da Lee Brackett è un ciclo molto importante dove però se pensiamo a quello che abbiamo detto stiamo vedendo sul pianeta Marte applicati certe maniere di narrare storie che sono tipiche dell'immaginario terrestre stiamo parlando di eroi eroine principesse mostri quindi è un romanzo cavalleresco portato sul pianeta Marte bello da leggere sono libri godibili sono fatti per divertire il lettore così che compra la prossima puntata quindi sono veramente di soddisfazione da leggere pieni di colpi di scena di tante trovate molto belle però non si discostano tanto da una favola con appunto l'eroe il cavaliere il re la regina e così via al pago cattivo e del cavaliere nero ci sono i marziani verdi rossi gialli come volete voi con la loro tecnologia aliena la cosa incredibile è che dal punto di vista della scienza l'idea dei canali di Marte che abbiamo visto negli anni 50 60 del ventesimo secolo è una idea che ormai è diventata minoritaria ma se uno va a prendere l'enciclopedia britannica del 1960 cioè uno dei testi più affidabili della cultura allora e oggi nelle versioni ovviamente aggiornate si scopre che guardando la voce Marte scritta dall'allora vice direttore dell'osservatorio astronomico di Grimic cioè uno dei più importanti osservatori astronomici allora come oggi ebbene c'è un'intera voce dedicata ai canali marziani e l'astronomo scrive che chi non riesce a vederli e sostiene che sia un'illusione ottica semplicemente non ha voglia di allenarsi a guardare bene al telescopio è chiaro che se tu dai così una fuggevole occhiata al telescopio non riesci a vedere bene e ti sembra di vedere delle macchie no ma se ti alleni allora vedi che ci sono proprio questi canali dritti e quindi c'è l'acqua su Marte e tant'è vero che c'è un capitolo dedicato proprio alla vita su Marte come vedete Life on Mars si chiama e questa vita su Marte è qualcosa è un titolo che nella cultura pop britannica sarebbe stato poi preso anche per esempio dal grande cantante al grande cantante David Bowie che appunto ha fatto uno dei suoi brani più famosi che si è iniziato proprio Life on Mars con quel punto interrogativo che sembra uscito da quella voce dell'enciclopedia britannica dove l'astronomo si avventura a immaginare dove grazie a quest'acqua potrebbero essere come potrebbero essere fatte le piante marziane o gli esseri viventi marziani non solo microbi ma magari anche esseri pluricellulare dice che potrebbero essere anche grandi magari come qualche topolino come qualche cricettino però su Mars curioso vero? Ebbene lasciando da parte i canali marziani che le sonde spaziali proprio negli anni 60 andando vicino al pianeta Marte ci hanno mostrato che non esistono che è un'illusione ottica ma tornando a come la fantascienza ci ha descritto il pianeta Marte e avviandoci verso la conclusione di questo nostro intervento volevo ricordare un breve racconto che si chiama Un'idea sia marziana in Martian Odyssey scritto da Stanley G. Wimbaun uno scrittore di fantascienza che ahimè purtroppo è morto giovane prematuramente per un tumore e che ha scritto questo racconto che è considerato un racconto fondamentale per lo sviluppo della fantascienza contemporanea perché? perché in questo racconto immagina che ci siano i terrestri che con un'astronave vanno su Marte uno dei membri di questa spedizione si perde nel deserto di Marte e rischia essendosi disperso rischia di morire ma sul deserto di Marte incontra un marziano un alieno fatto in maniera completamente diversa dagli esseri umani lo vedete raffigurato al centro da questa illustrazione del grande artista illustratore di fantascienza italiano Franco Brambilla ha un aspetto che per certi versi sembra un po' un uccello per altri un po' un rettile è diverso fa una serie di strani suoni non ha un linguaggio apparentemente con le parole con una lingua come quello terrestre fa dei balzi curiosi e quando salta in alto poi atterra complicando questo specie di becco nel terreno ha un linguaggio completamente alieno non si capiscono il terrestre e il marziano perché sono alieni alieno vuol dire proprio diverso da me e quindi non hanno la possibilità di comunicare ma non è un mostro l'astronauta l'astronauta terrestre e il marziano che anch'esso si è perso in questo deserto imparano a collaborare per salvarsi e anche se non parlano la stessa lingua hanno un obiettivo comune la sopravvivenza e nella storia è molto interessante vedere come ovviamente la storia raccontata dal punto di vista del terrestre come riescono insomma a lavorare insieme per l'obiettivo appunto della reciproca salvezza e questo è un romanzo fondamentale perché è un racconto che è fondamentale perché abbiamo quella che è considerata un'azione una illustrazione veramente matura di un alieno che non è più il mostro cattivo che è venuto a distruggere bla 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 no lo scontro diventa incontro un incontro difficile perché non parliamo la stessa lingua non si ragiona allo stesso modo d'altronde è alieno cioè diverso dai terrestri sarebbe sciocco pensare che abbiamo elaborato la stessa maniera gli stessi valori i stessi criteri per fare comunicazione ma è proprio questo confronto fra i due che hanno in comune solo un aspetto la necessità di sopravvivere che in maniera era molto semplice e ancora una volta intendo dire molto divertente cioè uno leggendolo si appassiona la storia ebbene ma è proprio questo aspetto che è fondamentale siamo passati dallo scontro inevitabile ma tanto sono mostri chi se ne importa se li ammazziamo all'incontro e al tentativo di capire una mente diversa dalla tua ecco quindi un obiettivo che dovremmo avere anche qui sulla Terra prima di arrivare a confrontarci con il marziano il titolo di questo nostro intervento Cronache marziane romanzo di Ray Bradbury che esce nel 1950 in realtà una raccolta di vari racconti che vengono uniti fra di loro e che parlano di come i terrestri arrivano sul pianeta Marte colonizzano il pianeta Marte incontrando i marziani i marziani che prima fanno resistenza a questi alieni che sono i terrestri e ancora una volta ahimè in parte vengono debellati dalle malattie che i terrestri portano sul pianeta Marte mentre i terrestri riescono a proteggersi nelle condizioni del pianeta Marte e quindi non hanno problemi altri marziani invece si decidono di diventare esseri di pura energia incorporei lasciando la superficie del pianeta Marte appunto ai coloni terrestri è un racconto dove il pianeta Marte non è assolutamente il pianeta della scienza è un pianeta della fantasia di Ray Bradbury è un pianeta dove si può respirare tranquillamente l'atmosfera benché si sapesse già che è un'atmosfera irrespirabile è un pianeta dove ci sono questi canali con l'acqua che scorre ben tempo che si era già capito che i canali erano di lusione ottica è un Marte completamente inventato ma Bradbury non importa perché Bradbury vuole raccontare una storia una storia affascinante e Marte è semplicemente il palcoscenico per questa storia sul che vuole raccontare perché è il pianeta dei sogni è un luogo fantastico dove gli esseri umani vanno e ripartono da zero una nuova avventura e quindi ecco che ognuno se vuole può tentare di essere una persona migliore può tentare di essere se stesso c'è chi nella storia si vederà che c'è chi ci riesce e c'è chi invece chi non ci riesce l'edizione più recente di Veronica Marziani in Italia è quella con quella nuova traduzione di Veronica Raimo che vedete lì al centro di questa slide e l'illustrazione con questa coppia tipicamente anni 50 statunitense che va in macchina sul pianeta Marte come uno può fare una gita fuori porta si ispira incredibilmente al lancio di che SpaceX di Elon Musk ha fatto di una vera automobile una Tesla proprio del miliardario che è una parte di automobili e che fa anche questi raggi spaziali Elon Musk nel volo di prova di un raggio spaziale il Falcon il Falcon Heavy fatto qualche anni fa e invece di lanciare nello spazio una sonda dato che era un volo di prova ha lanciato nello spazio una macchina vera la sua macchina con un manichino chiamato Starman piccolo inciso Starman è il nome il titolo di un'altra canzone di David Bowie grande artista che proprio ha fatto tantissime canzoni ispirate al fascino dello spazio e degli astri al mistero dello spazio non alle conoscenze scientifiche quello che sappiamo ma quello all'incognito all'ignoto quello che ancora non sappiamo dello spazio e questo razzo ha messo in orbita intorno al sole questa macchina che tuttora sta girando intorno al sole ci sono siti web dove se uno va può vedere dove si trova in questo momento orbitando intorno al sole questa macchina completamente distrutta dalle radiazioni solari ma sta ancora girando ormai ridotta a rotare intorno al nostro sottone alle sabbie di Marte è legata anche la nascita della fantascienza in Italia la parola fantascienza viene coniata quando appunto compare il 10 ottobre del 1952 in Italia il primo romanzo di Urania in edicola le sabbie di Marte del grande scrittore Arthur C. Clarke il grande scrittore di fantascienza già famoso all'epoca sarebbe diventato strafamosissimo con 2001 edizione dello spazio l'opera che ha curato insieme al grande regista Stanley Kubrick in questo romanzo nell'edizione italiana di questo romanzo per spiegare il genere per la prima volta viene usato il termine fanta trattino scienza questa parola non esisteva prima in italiano quindi per spiegare al lettore di chi si tratta ecco che su Urania si può leggere che è un romanzo di fantascienza prima si parlava di racconti fantastici romanzi scientifici non c'era una parola unica fantascienza scritta col trattino diventa subito un neologismo c'è una parola nuova di grandissimo successo e proprio quest'anno a ottobre abbiamo fatto 70 anni non solo di Urania con l'ANA che tuttora pubblica in edicola con grande successo ma addirittura della parola italiana fantascienza quindi una parola di grandissimo successo ci sono scrittori italiani venendo più ai tempi nostri come Paolo Aresi che negli ultimi anni hanno scritto trilogie ispirate al pianeta Marte e alla sua esplorazione come la trilogia dedicata a Korolev Korolev o Corriolev io scusatemi non so parlare in russo quindi lo pronuncio un po' a casaccio mi perdono chi lo sa parlare bene il nome del grande ingegnere padre del programma spaziale sovietico quindi torniamo all'epoca della guerra fredda in questi romanzi si immagina che questo personaggio appunto che nella storia muore prematuramente negli anni 60 e senza il suo genio l'unione sovietica perde quella supremazia nei programmi spaziali che l'aveva portata a lanciare il primo satellite artificiale intorno alla terra il primo essere umano nello spazio e così via bene questi romanzi immaginano uno scenario alternativo a quello successo nella realtà quale non ve lo racconto andate a leggervi se volete i romanzi di Paolo Aresi per appunto seguire le avventure del corio immaginato dallo scrittore di fantascienza bergamasco Paolo Aresi ha scritto anche una serie di racconti uno di questi racconti si intitola Il villaggio di Marte è in copertina a un rover uno dei robot con cui noi modernamente esploriamo il pianeta Marte comandandolo da qui dalla terra radio comandandolo e spazio alla conoscenza ha più volte ospitato Paolo Bellutta pilota italiano dei rover marziani della NASA qui lo vedete appunto nel giardino del JPL di Pasadena in California il Jet Propulsion Laboratory il luogo dove ha lavorato dove appunto sono raccolti dei modelli dei vari rover marziani sempre più grandi sempre più tecnologicamente avanzati e lui ha avuto a che fare con i modelli più grandi Spirit Opportunity che vedete sulla parte sinistra dello schermo e poi Curiosity che vedete sulla parte destra ed è stato consulente anche per Perseverance che adesso è su Marte Paolo Bellutta insieme con Stefano dalla casa ha anche scritto un piccolo libro divulgativo purtroppo oggi non più pubblicato credo spero che si possa trovare magari in formato elettronico in ebook in cui racconta appunto come si lavora guidando un rover su Marte dalla Terra oltre ai rover della NASA avremmo dovuto avere anche un rover europeo il rover Rosalind Franklin della missione ExoMars purtroppo per una serie prima di problemi di carattere tecnico poi per una serie di problemi di carattere politico perché era una missione che l'Agenzia Spaziale Europea ESA faceva insieme con l'Agenzia Spaziale Russa Roscosmos chiaramente con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia la collaborazione scientifica è venuta meno e quindi questo rover che doveva partire quest'anno in occasione proprio della posizione favorevole di Marte alla fine di quest'anno al momento non è partito e dovrebbe partire con un altro lanciatore fra un paio d'anni quando Marte si troverà di nuovo in una posizione favorevole questo che vedete quindi è un disegno del rover Rosalind Franklin sulla Terra su Marte questo è un il rover Amalia Ercoli Finzi che è qui sulla Terra in Piemonte a Torino nei laboratori e delle aziende che come tale Salenia Space che hanno contribuito a costruire il rover che va su Marte questo è un modello di rover e anche su questo spazio della conoscenza ha fatto collegamenti e può raccontare tante cose più di quelle che vi posso dire io basta andare appunto a riproporare i vari video che si trovano sul canale dell'Istituto Ciampini Boccardo dedicati proprio agli scienziati e i fisici gli ingegneri gli astronomi italiani che hanno collaborato e stanno collaborando a questa missione Rosalind Franklin il nome del rover che andrà su Marte una grande scienziata britannica ha in me scomparsa mentre invece a Mayer con i Finzi la prima ingegnere aerospaziale donna in Italia è fortunatamente ancora viva e vegeta e quindi questo nostro rover che è un modello su un finto pianeta Marte che si trova a Torino serve perché se il rover quando andrà su Marte per davvero avrà dei problemi si può verificare su questo finto pianeta Marte cosa come agire per poterlo sbloccare questo appunto ci racconta come questa missione purtroppo è stata sospesa per motivi geopolitici e in conclusione e scusatemi se mi sono allungato troppo concludiamo con gli ultimi tre romanzi più diciamo fondamentali dedicati al pianeta Marte dove si fa il terraforming di Marte sono di questo grandissimo scrittore di fantascienza Kim Stanley Robinson che ha fatto questi tre romanzi Marte Rosso Marte Verde Marte Blu e più una serie di racconti chiamati i marziani in cui si immagina che il pianeta Marte venga non solo colonizzato dai terrestri ma che questi facciano interventi sull'ambiente marziano per trasformarlo in un pianeta simile alla Terra possano trasformino cambino la sua atmosfera in maniera da rendere respirabile aumentino la temperatura del pianeta Marte e questi racconti questi romanzi sono incredibili perché si basano su studi scientifici che ci sono per davvero e infatti sono romanzi molto spessi e che in certe parti sembrano più dei saggi che dei romanzi ma la cosa incredibile è che tutte queste tecnologie almeno a livello ipotetico ma in certi casi addirittura anche a livello pratico sono descritti nel romanzo sono basati su tecnologie ipotizzate o realizzate qui sulla Terra il romanzo affronta anche aspetti caratteretico ma perché mandiamo dei coloni su Marte visto che è un pianeta sul quale possono essere sottoposti a rischi e pericoli e quindi non tornare più chi siamo noi per mandare magari a morte dei nostri simili su un altro pianeta e chi siamo noi per cambiare l'ambiente del pianeta come se fosse nostro quali sono i diritti che l'umanità ha se ce li ha nei confronti degli altri mondi come vedete è tutta una serie di questioni anche di carattere filosofo la cosa interessante è che noi su Marte non ci siamo ancora andati ma ci sono certe zone della Terra come per esempio dei deserti del Cile o delle isole oppure delle montagne molto elevate delle isole away o l'Antartide che hanno condizioni analoghe a quelle del pianeta Marte e quei colori rosso, verde e blu che hanno dato in nome la trilogia del pianeta Marte di King Stanley Robinson sono anche i colori di una delle bandiere proposte per il pianeta Marte quando sarà colonizzato dai terrestri rosso come è oggi un deserto secco e freddo senza la possibilità che possa sostenere la vita verde come potrebbe essere trasformato grazie a questi interventi di ingegneria planetaria mutando l'ambiente del pianeta Marte finché diventa azzurro cioè permette l'acqua all'acqua allo stato liquido di esistere sul pianeta Marte noi oggi sappiamo che su Marte c'è acqua ma è acqua che si trova ghiacciata nel sottosuolo del pianeta Marte o nelle calotte polari del pianeta Marte acqua ghiacciata ma se si sono strumenti che potrebbero essere in grado di scioglierla in maniera abbondante chiaramente questo potrebbe provocare un incredibile cambiamento climatico sul pianeta rosso e come sappiamo dalla Terra noi esseri umani siamo in grado di provocare cambiamenti climatici su scala planetaria c'è chi dice abbiamo già fatto pasticci sulla Terra andiamo a farli anche su Marte c'è chi sostiene proprio perché abbiamo fatto pasticci sulla Terra dobbiamo andare su Marte ai posteri l'ardo ha sentito e puntiamo finalmente e vi ringrazio tantissimo per la pazienza con le parole con cui si chiude il romanzo a cronica e marziana di Rebbe Redboli quella che adesso leggiamo è appunto la sono le ultime parole del romanzo nella bellissima traduzione di Giorgio Monicelli fratello del famoso regista Mario Monicelli colui che ha inventato quella parola fanta trattino scienza che abbiamo visto prima è Giorgio Monicelli che traduce appunto l'opera di Redboli e adesso vediamo appunto le ultime parole e vi spiego perché ve le mostro vi dico subito che non sono uno spoiler cioè non rovinano la lettura del romanzo se non l'avete mai letto ma ci aiutano a capire una cosa molto importante quale leggiamola i protagonisti sono una famiglia una famiglia che si trova su Marte e vanno a vedere i canali erano giunti al canale un canale lungo diritto sottile un canale ricco di frescura e di umidità e di riflessi nella notte ho sempre voluto vedere un marziano disse Michael ma non lo vedo mai eppure me lo avevi promesso papà il bambino si lamenta il papà ha detto andiamo a vedere i marziani sono andati al canale e dove sono questi marziani chiede il bambino lì dove sono i marziani disse il babbo che si tirò Michael in braccio indicandogli l'acqua erano là i marziani nell'acqua del canale che ne rimandava l'immagine erano Tim Mike Robert la mamma e il babbo i marziani sono i terrestri che si riflettano nell'acqua immaginaria del fantastico canale marziano ipotizzato da Ray Bradbury ebbene questi questi marziani che sono i terrestri ci spiegano il senso di tutto quello di cui abbiamo parlato lungamente questo pomeriggio si va su Marte con le sonde spaziali nella realtà con gli astronauti in un prossimo futuro con la fantascienza nella fantasia perché è proprio il confronto con un mondo distante un mondo altro da te che ti aiuta a capire meglio chi sei tu che ti aiuta a capire meglio a descrivere l'essere umano a comprendere le nostre caratteristiche a comprendere meglio noi stessi e coloro vedono se stessi riflessi nello specchio d'acqua marziano vuol dire che hanno dovuto fare questo viaggio dalla Terra a Marte per vedere veramente chi erano e questo è proprio quello che fa la fantascienza o l'astronomia la fantascienza immagina l'astronomia studia qualcosa di lontano di distante di diverso da noi certo per capire meglio come sono fatti questi mondi alieni ma poi facendo il confronto per capire meglio come siamo fatti noi stessi ecco il grande senso di tutta questa grande cavalcata che abbiamo fatto tra scienza e fantascienza tra letteratura e scoperte scientifiche in queste cronache marziane che io vi ringrazio tantissimo di aver seguito in questo nostro pomeriggio insieme passo quindi a questo punto la parola a Corrado e Mauro ringraziando veramente tanto per la pazienza nessuna pazienza e non alcuni non li conoscevo soprattutto gli ultimi quelli della trilogia su Marte non li conoscevo sia quello italiano che del Marte blu rosso e non li conoscevo e io sono un grande lettore di fantascienza quindi mi metterò in pari con per questo mi ha mancato i romanzi di Kim Staley Robinson sono stati recentemente tradotti in Italia sono degli anni 90 ma solo recentemente nel 90 del ventesimo secolo solo recentemente sono stati tradotti in Italia da Fanucci quindi si possono trovare per quella casa di Trincio perfetto allora adesso i ragazzi hanno delle domande si possiamo entrare nel laboratorio di Trinale stanno arrivando io ci sono anche qui abbiamo se non siamo su Marte dietro le quinte prepariamo le domande salve allora una domanda ma se l'uomo dovesse andare su Marte e dovessimo anche riuscire a restare lì in qualche maniera quali sarebbero le mutazioni genetiche che potrebbero avvenire nel nostro corpo nelle fasi del tempo è una buonissima domanda allora è chiaro che se l'essere umano riuscisse a sopravvivere su Marte vorrebbe dire che ha trovato una maniera di vivere su un mondo dove la temperatura media è attualmente 50 gradi sotto zero l'acqua non può che esistere è ghiacciata e l'atmosfera è fatta quasi interalmente di anidride carbonica e non senza campo magnetico le radiazioni inocitive che arrivano dal cosmo colpigono continuamente la superficie rendendola sterile quindi un mondo infernale è chiaro che le mutazioni genetiche potrebbero avvenire per diciamo così due fattori non sono un esperto di evoluzione ma visto che la domanda è su questo mi improvviso esperto chi sa qualcosa di evoluzione ovviamente è libero poi di correggermi da una parte sicuramente i raggi cosmici perché se queste radiazioni il codice genetico dell'essere umano appunto se l'essere umano non è protetto da queste radiazioni nocive colpiscono all'interno della cellula dell'essere umano il DNA umano e lo modificano e quindi se abbiamo figli su Marte questi figli possono ricevere un DNA modificato e quindi potrebbero sorgere delle mutazioni particolari quali? chi lo sa? perché in questo caso si tratta di mutazioni casuali alcune potrebbero essere locive e persone potrebbero morire altre invece potrebbero essere casualmente favorevoli in altri casi invece avremmo la cosiddetta pressione selettiva cioè io sono su Marte mi trovo a vivere in certe condizioni ed ecco quindi per esempio che qualcuno che è in grado che ne so dico la sciocchezza solo per dare l'idea persone che hanno una pelle più spesta sopravvivono meglio perché sono in grado di resistere maggiormente alle radiazioni che arrivano dal cosmo non è vero questo me lo sono inventato ma è per dare l'idea non sono in grado adesso di dire una mutazione vera dell'azione cioè tra i tanti figlioli che qualcuno ha quelli che casualmente hanno caratteristiche che permettono loro di vivere meglio sul pianeta Marte sarebbero probabilmente in grado di riprodursi con maggior facilità quindi generazioni di marziani succederebbero probabilmente Marte sicuramente provocherebbe nelle successive generazioni delle mutazioni sicuramente nella mia fantasia dal punto di vista per esempio di muscoli ossa perché con una gravità inferiore rispetto a quella terrestre non sarebbe necessario avere un apparato così completo così resistente come quello che noi abbiamo qui sulla terra quindi non sono esattamente in grado di rispondere a questa domanda ma non lo è nessuno perché dovremmo inventarci in che maniera l'essere umano è riuscito a sopravvivere nelle condizioni che abbiamo descritto prima se vi ricordate la copertina del romanzo le sabbie di Marte che prima ho mostrato vediamo se riesco a recuperarla infatti si vede recuperiamo eccolo qua si vede un'ipotetica città marziana sotto una cupola che protegge da tutti quegli ambienti dall'atmosfera velenosa dal grande freddo dalle radiazioni nocive gli esseri umani che vivono lì sotto è chiaro che in questo ambiente che è un pezzo di terra portato su Marte sì la gravità sicuramente quella influisce ecco ma tutte quelle altre questioni che abbiamo detto nella fantasia di queste strutture non avrebbero effetto spero di avere risposto alla domanda ok grazie e avevo anche un'altra domanda se posso fargliela subito le tecnologie che avremmo bisogno per riuscire ad arrivare più i mesi di andata e di ritorno quali sarebbero per riuscire a sopravvivere per un anno là cioè per due anni perché alla fine è un anno un anno marziano sono due anni terrestri allora 50 gradi sotto zero però anche di più mentre vi sto parlando ci sono dei nostri colleghi che sono in Antartida quindi a quelle temperature gli esseri umani hanno inventato tecnologie che permettono loro di sopravvivere è ovvio che se tu prendi un essere umano lo metti completamente denudato a 90 gradi sotto zero ecco però grazie a tutta una serie di stratasemi quello sappiamo abbiamo gli strumenti per poter resistere ehm il dal punto di vista del del viaggio del fare il viaggio tecnicamente io non sono un esperto di astronautica ma dal punto di vista del poter fare questo viaggio è una sfida di carattere tecnologico siamo arrivati sulla luna stiamo tornando sulla luna e sfruttare queste sette tecnologie per renderle abbordabili anche per fare un viaggio che poi magari deve durare mesi e non è detto che lo devi fare in giornata il viaggio fra la terza e marzo quindi da questo punto di vista anche per fare il viaggio siamo secondo me a portata il mio il vero problema mio parere personale ma il parere condiviso da tanti pensatori ben più autorevoli del sottoscritto è il sopravvivere alle radiazioni del cosmo perché su quello al momento noi non abbiamo una soluzione definitiva ehm le tute spaziali i veicoli ehm come la stazione spaziale internazionale che è in orbita attorno alla terra o le navicelle che hanno avuto gli astronauti sulla luna 50 anni fa nel programma Apollo quelle che li riporteranno se tutto va bene nei prossimi anni eccetera eccetera garantiscono periodi di permanenza con protezione di radiazioni ma per periodi appunto limitati un assimo nello spazio sulla stazione spaziale internazionale che peraltro è dentro il campo magnetico della terra si è sotto le fasce di Kuiper cioè passa in un piccolo pezzo in una fascia di Kuiper il Van Allen Kuiper è un'altra cosa ma sono contento che possediamo un minimo di conoscenza da questo punto di vista quindi il principale problema sarebbe la schermatura dalle radiazioni cosi secondo me sì perché uno dice uno dice vabbè facciamo schermi con sostanze che ci proteggano a queste radiazioni ma di solito queste sostanze sono sostanze molto pesanti da un punto di vista della massa come per esempio il piombo molto dense proprio perché sono dense ci proteggono perché le radiazioni non ci passano attraverso solo che poi il ralzo è difficile da lanciare dovendo vincere la gravità terrestre lunare o quel che è oppure la stessa acqua la stessa acqua è un altro elemento per poter contenere le radiazioni ma vivere dentro un acquario con le pareti insomma fatte di acqua ancora una volta ci sono problemi di massa quindi indipendentemente dalle solioni di carattere tecnologico a mio parere e sopravvivere a queste reazioni ed è un problema talmente importante che siamo arrivati al punto che c'è chi sta sostenendo l'idea che per mandare esternati su Marte almeno le prime missioni devono essere fatte di di persone che andranno su Marte sapendo che non torneranno ok quindi le prime missioni su Marte saranno di persone che vanno là per restare e per morire per morire là per morire là ma semplicemente proprio bisogna inventare un campo magnetico per proteggersi da questa cosa nelle navicelle come? non l'ho capito oppure bisogna creare un campo magnetico alternativo a quello terrestre e questo di creare un campo magnetico portatile è un'altra possibilità che è stata presa in gioco che però è una sfida ingegneristica non da poco esattamente e questa che ho detto invece degli astronauti camicas è una sfida etica non da poco e infatti ovviamente non viene presa sul serio ma il fatto già che sia stata proposta e discussa a livello internazionale fa capire la difficoltà dai lascio lo spazio agli altri ragazzi che vogliono fare domande grazie mille il spazio della conoscenza perfetto allora volevo fare una domanda ma quando l'essere umano potrà andare su Mars? è un'ottima domanda come stavamo dicendo prima secondo qualcuno abbiamo già le tecnologie per poterlo fare basta riduciare al fatto di arrivarci e sopravvivere lì e di tornare cioè una cosa è andare su Mars una cosa è tornare se vogliamo andare e tornare quando Kennedy lanciò il programma Apollo negli anni 60 il presidente degli Stati Uniti dell'epoca in risposta al viaggio attorno alla terra di Yuri Gagarin aprile 1961 e il 12 aprile 1961 poco dopo il 25 maggio 1961 potrei sbagliarmi ma è poco dopo il presidente Kennedy per lo smacco che gli Stati Uniti avevano ricevuto e si è stati superati in queste imprese tecnologiche della Unione Sovietica disse prima della fine del decennio cioè entro la fine degli anni 60 faremo una missione per portare sulla luna degli esseri umani e riportarli a casa sani e salvi attenzione e questo e riportarli a casa sani e salvi non è secondario perché se vogliamo andare qualcuno sulla luna lo sparo sulla luna e buonanotte e la stessa cosa vale su Mars per qualcuno appunto il discorso è ci sono già le tecnologie andiamo e chi arriva lì vabbè muori lì non ha le risorse eccetera eccetera però abbiamo piantato la bandiera ma vale la pena veramente di fare tutto questo per piantare una bandiera c'è qualcuno che sostiene di sì oh io non la penso così ci tengo a dirlo mica sono il capo del mondo ok ne è possibilmente posso dire la mia battuta detto che ci sono soluzioni tecnologiche come quelle discusse prima con l'altro vostro collega che non sono appunto facili da individuare sono sfide ingegneristiche non da poco come è stato giustamente commentato a me piacerebbe che grazie alla tecnologia riusciremmo punto a che si parla di Samantha Cristoforetti di Luca Parmitano come candidati per prossimi voli del programma Artemis è un programma internazionale che coinvolge alcune nazioni nel mondo non tutte le nazioni nel mondo per esempio non la Cina non la Russia non l'India a me piace pensare che in un futuro ci potrà essere un programma mondiale per fare questa impresa e che dato che nel 1969 siamo arrivati sulla Luna mi piace pensare che nel 2069 potrebbe esserci il primo sbarco di esseri umani su Marte che possano essere in grado di tornare sani e salvi sul nostro pianeta me lo sono inventato io non c'è nessun motivo per cui si possa pensare a una cosa di questo genere magari avverrà prima tutto dipende dagli sviluppi tecnologici a idee nuove che magari qualcuno che sta seguendo questo incontro in presenza di un remoto sa andare nello spazio e su Marte e di andarci con uno scopo che sia un po' più elevato di metterci la bandierina che sia andare lì per esplorare per conoscere per imparare qualcosa di nuovo spero di avere risposto va bene grazie lascio lo passiamo un altro compagno sempre di spazio stiamo parlando grazie buongiorno volevo chiedere perché Marte fosse rosso ottima domanda non ne abbiamo parlato qui allora è rosso per un motivo molto semplice perché è ricoperto da una sabbia al colore rossastro e questa sabbia molto fine è sparsa su quasi tutto il pianeta questa sabbia è fatta fondamentalmente di ostidi di ferro gli ostidi di ferro sono quello che noi qui sulla Terra conosciamo bene la chiamiamo banalmente ruggine quindi Marte è ricoperto da una sabbia fatta di rugini questa sabbia può essere sollevata tenendo conto della gravità inferiore marziale rispetto a quella terrestre e scatenare anche gigantesche tempeste di sabbia che sono in grado di avvolgere l'intero pianeta quelle giochi di luce e di ombre che appunto Schiaparelli e altri fra fine ottocento e inizio del novecento hanno visto sul pianeta Marte erano dovuti anche a come questa sabbia rifletteva in maniera diversa la luce del sole secondo a che ci fosse una tempesta di sabbia o no sappiamo che ci sono oggi sappiamo che su Marte ci sono tempeste di sabbia che in certe stagioni sono particolarmente frequenti e possono ricoprire gran parte del pianeta sono l'intero pianeta anche per lunghi periodi di tempo per intere giornate marziane quindi un analogo fenomeno sulla terra per fortuna non c'è però è semplicemente perché questa sabbia ha questo colore rosso aranciato o meglio quando è illuminata dal sole riflette la luce del sole quindi questo colore rosso aranciato perché sono ossidi ossidi di ferro spero di avere risposto grazie mille grazie buongiorno volevo chiederle se ci potrà mai essere vita su Marte come la canzone di David Bowie Life of Mars se lo chiedeva anche lui anche se in realtà la canzone non parlava proprio di astronomia bellissima canzone per chi non la conosce ovviamente la vado a cercare vedete il video uno dei punti inarrivabili dell'arte del ventesimo secolo arte in generale detto questo forse in passato su Marte il clima era diverso forse in passato su Marte c'era appunto una temperatura che permetteva di avere sulla superficie del pianeta un ambiente più caldo di quanto non sia oggi vedete qua sullo schermo ho rimesso una fotografia del Gisiro Crater la zona dove appunto si trova il rover Perseverance con il drone elicotterino marziano Ingenuity vedete che lì c'è proprio l'aspetto di questo fiume che arriva qua a fare questa foce in quello che è un grande lago piatto vedete qua sulla parte sinistra tanti crateri quindi una superficie che non è stata erosa qua pochi crateri è una zona piatta sembra proprio di immaginare dei banchi di sabbia sembra veramente il fondo di un lago manca solo l'acqua allora oggi Marte temperatura zero l'acqua è marciata nel sottosuolo nelle calotte polari forse ci sono delle sacque di acqua liquida estremamente salata a salmastra nel sottosuolo marziano le ha individuate qualche anno fa proprio una missione dell'agenzia spaziale europea Mars Express con un contributo determinante di tecnologie e scienza italiana e da questo punto di vista quindi l'acqua come sostanza fondamentale per la vita come noi la conosciamo lì sulla terra esiste perché le cellule viventi sono fatte in gran parte di acqua le nostre stesse cellule solo che se sono ghiacciate si vive poco ma su Marte temperatura oggi fredda ma se una volta c'era acqua tale da poter fare fiumi, foci e laghi e questa è una immagine che vi stiamo mostrando delle migliaia di immagini di strutture analoghe sul pianeta Mars quindi questo fa pensare che nell'arco di miliardi di anni c'è stato un drastico cambiamento del clima marziano attenzione non un cambiamento nell'arco di decenni come sta capitando qua sulla terra a causa degli effetti che gli esseri umani con le loro modifiche all'ambiente terrestre appunto stanno producendo il cambiamento climatico in atto con la crisi climatica in atto sul pianeta Terra è un fenomeno che avviene nell'arco di decenni e che ha un'origine come si dice antropica cioè l'intervento dell'essere umano sull'ambiente invece per cause naturali che non sono ancora ben note e su tempi ben più lunghi tempi geologici centinaia di milioni di anni il clima su Marte potrebbe essere drasticamente cambiato se una volta Marte è caldo c'era l'asquido e forse l'atmosfera era un po' più spessa il campo magnetico adatta allo sviluppo di forme di vita forse non lo sappiamo ma i vari rover a cominciare da Rosalind Frank rover europeo che fra un paio di anni si spera dovrebbe andare su Marte stanno andando a cercare non solo tracce di materia organica su Marte e varie sostanze organiche che sono state già trovate su pianeta Marte ma sono spezzi sono mattoncini che servono per fare gli esseri viventi non essere viventi forse qualche fossile di batterio marziano di microbo marziano di microscopica vita marziana sul pianeta Marte sarà trovata da future missioni automatiche robotiche o magari degli astronauti forse addirittura qualcuno sostiene che esseri viventi potrebbero esserci tuttora sul pianeta Marte ma non in superficie bensì nel sottosuolo ed è per quello che il nostro pianeta il nostro pianeta la nostra rover rover chiedo scura Rosalind Franklin avrà una specie di trivelle che cercherà di scavare a diverse decine di centimetri di profondità nel suolo marziano per vedere se lì sotto con una il suolo che protegge dalle radiazioni e che tiene magari un po' più caldo forse c'è un pochino di acqua liquida magari c'è ancora qualche microbo marziano tuttora vivente chi lo sa non lo sappiamo con certezza grazie mille salve grazie a voi ok allora direi che le domande sono finite adesso facciamo una cosa nuova ecco rado sì adesso presentiamo dei libri per le vacanze in reale visto che siamo a una settimana dalle vacanze e per caso hai la slide la presentiamo subito ecco qua allora fai avanti ok perfetto allora il primo libro che presentiamo è un libro che ha aperto la nostra rassegna quest'anno grazie a conoscenza ha fatto il primo evento con Tommaso che è venuto a presentare il suo libro qui a Novi al museo della l'anno scorso eh l'anno scorso l'anno scorso ho perso un anno e è un libro interessante è praticamente un'autobiografia però in cui racconta come è nato il suo amore per lo spazio la sua passione quali sono stati i suoi riferimenti durante la sua vita studentesca e anche dopo eh mischiato anche a a riferimenti sia letterali che cinematografici che anche eh di storia greca cioè ha la la cultura molto ampia il è un libro che consiglio io veramente mi ha appassionato e è stato veramente incita a a seguire le povere passioni ah c'è da dire che questo libro ha vinto anche un concorso di eh Repubblica è arrivato prima tra una serie di diversi autori con i loro libri che hanno partecipato ed è stato scelto questo di eh Tommaso Vidini dunque poi lui è una è una persona che ha un ottismismo e una forza in tutto quello che fa di incredibile ok secondo libro al secondo libro il secondo libro Paolo Nespoli e lui ha scritto ed è proprio un romanzo un romanzo che alla fine ricalca leggermente la sua vita ovviamente non dico non racconto tutto sul sul libro ma consiglio eh ai ragazzi ai nostri colleghi a docenti che ci seguono di poterlo leggere e comprare una cosa fondamentale è che sia lo precedente che questo libro qui si può acquistare col bonus cultura e col bonus docenti e dunque se vogliamo regalare dei libri ad amici parenti mi sembra che questi sono due libri spaziali interessante ma ce n'è anche un terzo un terzo libro che è quello di Paolo Nespoli che è leggermente diverso rispetto a quelli precedenti eh il vidini era un libro filosofico e sempre sul eh trasmette sempre la passione per quanto riguarda l'esplosione spaziale il lavoro che fa poi il romanzo di Nespoli e invece questo è un po' particolare diverso ma anche interessante quello di Paolo Navone ed è praticamente sempre lì è un romanzo su non proprio romanzo no è un è un è un uno studio un'analisi su eh una diciamo una storia eh storia o sbagliamento anche se siamo un po' in visto che siamo in argomento eh se all'interno del della Bibbia abbiamo delle indicazioni di visite di extraterrestri quindi UFO eh sulla da noi e attraverso le alcuni tratti della Bibbia eh lui fa l'analisi di quello che potrebbero essere eh degli UFO quindi degli oggetti non edificati che come vengono raccontati potrebbero dirci qualcosa è una storia alternativa cioè diciamo che è a metà tra scienza e fantascienza ecco sì allora sono tutte e tre dei interessanti belli appassionanti eh Andrea tu avrai anche tanti libro consigliare sia a docenti e ragazzi sicuramente sì allora volevo dire su quest'ultimo se mi permettete un piccolo commento su quest'ultimo libro io proprio di fantascienza sono cresciuto con un telefilm che andava in televisione che si chiamava progetto Blue Book che era un telefilm di storie inventate che si basava però su un vero progetto di studio degli UFO cioè di avvistamenti scolanti che era stato organizzato dall'aeronautica degli Stati Uniti e che iniziava esattamente c'era una sigla adesso le parole a memoria non me le ricordo ma iniziava facendo a vedere eh una presunto disco volante descritto nella Bibbia in particolare se non erro nel libro del profeta Ezechiele ecco perché si parlava appunto di una ruota che era comparsa in cielo allora adesso senza offesa non conosco ovviamente questo libro però qui io mi posso mi permetto di fare così una piccola nota eh c'è sempre il rischio dei canali cioè noi esseri umani siamo molto bravi a proiettare quello che noi pensiamo in quello che c'è fuori quanti di noi guardando una nuvola dicono guarda quella nuvola sembra un gatto un cane una papera tutti sappiamo in questo caso che è una nuvola e che il gatto il cane la papera ce le mettiamo noi con la nostra fantasia ecco queste cose capitano anche ai migliori studiosi quando per esempio si tenta di analizzare con gli occhi dell'oggi qualcosa che magari è scritto l'enni fa e non sempre possediamo lo stesso linguaggio anche le traduzioni quello che giunge a noi è un'autore che avrà studiato le lettere antiche molto più di quanto ne sappia io però questo così è un caveat che io ci tengo una piccola nota a margine che ci tengo a fare perché è valide in ogni caso ecco questa nostra pagina un anno fa circa avevamo fatto anche noi qui in osservatorio astronomico una diretta online dedicata proprio a alcuni volumi che erano volumi che erano stati iscritti o da ricercatori del nostro osservatorio astronomico quindi i miei colleghi collaboratori o persone o semplicemente colleghi di altri progetti di carattere scientifico e questi volumi volumi che non necessariamente hanno a che fare con astronomia c'è per esempio il volume del collega Davide Cenadelli Valle d'Aosta uno straordinario viaggio fotografico che è un volume uscito nel 2021 di bellissime fotografie dei padroni mavaldostani perché Davide è anche un fotografo professionista oltre che astronomo c'è il libro di Luca Nardi che oggi fa parte della meravigliosa squadra di planetaristi del planetario di Roma diciamo veramente un dream team mi permetto di dire di divulgatori scientifico che abbiamo nel nostro paese che racconta della sua esperienza di un viaggio in Sud America un mese a testa in giù racconto di un viaggio in Cile e Bolivia tra scienze storie e disavventure dal Sud America si sa si guardano benissimo le stelle perché alcune zone del Sud America sono fra i migliori al mondo per poter vedere gli astri ma questa è proprio anche un'avventura di carattere umano Fabio Nottevella ha pubblicato C'è vita nel sistema solare un volumetto che parla della possibilità appunto di avere vita ma non in luoghi diciamo così che sono così famosi del sistema solare come per esempio il pianeta Marte di cui abbiamo appena parlato ma come per esempio le lune ghiacciate dei pianeti giganti un argomento molto interessante veramente e infine il collega Paolo Calcidese bravissimo astrofotografo oltre che Richter è responsabile dell'attività didattica e pubblicazione del nostro osservatorio astronomico che ha pubblicato Stars un viaggio tra le stelle un bellissimo libro di fotografie astronomiche nel 2019 già qualche anno fa ma nel frattempo le stelle non è che siano cambiate di molto quindi se mi permettete così di fare pubblicità progresso a favore di questi colleghi noi non c'entriamo nulla l'osservatorio astronomico non c'entra nulla ma sono libri Valle d'Aosta un straordinario viaggio fotografico di Davide Cenadelli Un mese a testa in giù racconto di un viaggio in Cile e Bolivia tra scienze storie di disavventure di Luca Nardi C'è vita di Siano Solare di Fabio Nottebella e Starsi in viaggio tra le stelle di Paolo Calcidese bene sono libri che io mi permetto di consigliare per il semplice motivo appunto che sono belli se non è un problema li mettiamo poi in appendice al video con l'indice sulla IBS o Amazon in modo tale a poterli poi eventualmente velocemente reperire assolutamente non è un problema anche perché nella mia presentazione che appunto ho appena mostrato ho già inserito una slide dedicata a questi quindi li trovate già nella presentazione adesso arrivo alla fine così li potete eccoli qua quindi qua ci sono tutti con anche i link quindi se uno vuole può andare proprio ai link delle case editrici per poterli e già che ci sono dato che appunto è periodo natalizio ecco un paio di illustrazioni simpatiche con un babbo natale che porta i regali anche ai marziani ovviamente viaggiando su una slitta spaziale o un rover illuminato nella notte marziana con le luci di Natale ecco in una maniera simpatica almeno io la trovo spero che sia simpatica per fare gli auguri di Natale a tutte le persone che hanno partecipato a questo nostro incontro di spazio alla conoscenza ti ringrazio allora prima di salutarci un saluto da parte nostra Andrea ragazzi ci siamo aspetta un attimo Andrea che ti salutano ciao Andrea vai ragazzi 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 siamo qua ragazzi veniamo tutti tutti insieme salutate a presto a presto ciao grazie grazie tantissime alla prossima occasione auguri sulla terra o su Marte buon Natale tantissime grazie a tutti grazie tantissime buone feste buona feste a tutti e ci vediamo al prossimo appuntamento martedì alle 11 alle 10 e 30 con il professor Cenadel arrivederci a tutti grazie